oh non l'avevo visto siete un attimo in anticipo non ti preoccupare aspetta non andare, fai giù subito tadaaa molto facile e veloce ti spiego brevemente che cosa puoi trovare nel mio canale non ti preoccupare mi trovi live dalle 22 sempre qui su twitch o se ti sei perso qualcosa ho un canale youtube e un canale tik tok dove upload i miei video e i miei short ci vediamo